Allora, mi hai chiesto come fanno gli olimpici a parametrare con precisione. Allora, lasciando perdere Talete, lasciando perdere il problema di Talete, che è stato quello più utilizzato, diciamo, negli anni 80 e 90, addirittura si facevano i mirini con molto lunghi per avere a giusta distanza occhio-yota e averla in proporzione, si usa il carrello. Allora, cosa succede? Lo può fare sia l'arco olimpico che l'arco compound. Diciamo che l'arco compound non ha grossi problemi di parametrazione, perché ha problemi da 50 a 55 metri, da 45 a 55 metri per fare 6, non per fare 5, per esempio, perché è talmente preciso che è molto difficile sbagliarsi. Cioè il range di errore è molto pronto, quindi c'è molto poca possibilità di sbagliarsi, quindi puoi tranquillamente utilizzare la Diofra e addirittura se fosse vietato scendere, potrebbe tranquillamente contromirare e fare comunque gli stessi identici punteggi con la stessa identica parametrazione. Quindi è solo un'abilitare, non andiamo a cercarci roglie. Anzi, deve essere favorita la parametrazione, non con bersagli strani, con righe più corte. La parametrazione deve essere favorita e deve essere alla portata di tutto. Quindi, come prima mi hai detto che qualcuno piega gli angoli dei bersagli per poter non far parametrare chi utilizza tutta la visuale. E fa male, fa male perché la parametrazione deve essere favorita, deve essere proprio alla portata di tutto. Quindi le righe devono essere ben marcate, queste righe qua, una volta c'erano proprio le visuali, con le righe bianche molto ben marcate, in modo tale che la parametrazione durante la normale sequenza del tiro, quindi non assolutamente in modo esplicito, possa essere fatta con più facilità, anche bene offre. Perché quelli bravi possano fare bene, in qualsiasi caso. Non è il problema dei più bravi, il problema è quello degli scarsi, che devono imparare a fare bene. Quindi le righe più bravate, che sia molto più facile a parametrare, nella normale sequenza di tiro e non in modo esplicito. Questo è ovvio. Gli olimpici cosa fanno? Finché non è vietato salire e scendere, quante volte vogliono, basta posizionare il mirino, arrivare sul picchetto, vedere a quanto è il bersaglio e posizionare il mirino molto in alto. Quindi se il bersaglio è a 50 metri, sui 50 metri io lo metto a 18. Lo metto a 18 perché misuro il fine carrello, carrello, quanto è grande il bersaglio, no? E scendo, lo ritocco finché non l'ho trovato alla misura giusta. Ho a mente che il 34, il 11 vuol dire 51 metri, track, metterò 51 metri e tirerò le frecce. Quindi è un sistema semplicissimo, facilmente utilizzabile da qui dunque, è logico che ha bisogno di due, tre passate. Quindi salirò su, controllerò, lo avrò fatto perfettamente, lo ritoccherò, lo ritoccherò, ok perfetto, posiziono il mirino dove l'ho pulito. Eh, non evitato, no, questo. Poi non capisco perché non deve essere... Perché non è nella stessa sequenza di tiro? È nella stessa sequenza di tiro. Io sono salito e sceso tre volte. Certo non devo stare, devo stare nei tre minuti. Devo farlo nei tre minuti? Eh certo. Devo farlo nei tre minuti, devo farlo velocemente. Non devo metterci 15 minuti, 20 minuti come purtroppo ho visto. Questo non deve essere permesso. Ma perché non deve essere permesso utilizzare un'attrezzatura morgata nella mia normale sequenza di tiro per valutare la distanza? Certo che lo posso fare, lo devo fare. Devo essere addirittura facilitato a farlo. Perché è un'abilità, è un'abilità. Nei tre minuti io devo saper fare questo. E lo devo saper fare bene. Lo stesso vale per utilizzando il carrello del mio vino per l'olimpice. Nell'arco mudo è difficilissimo parametrare. È difficilissimo. Non c'è niente. Si può utilizzare la proiezione del bar santo sul bottone. Però non ci sono linchine come nel mirino. Lì va molto a occhio, molta destrezza, molta abilità. Lì veramente c'è bisogno di un'abilità eccessa. Sia per parametrare in modo orizzontale, in verticale. E anche in diagonale. In verticale. In verticale o utilizzi il resto, per esempio. O utilizzi il puntino del bottone. O utilizzi un'altra parte dell'arco nella tua normale sequenza di tiro. Non in modo esplicito. Sempre. Deve essere facilitato. Ad esempio montando il piano delle righe. Vedendole bene. In modo che tutti abbiano la possibilità di fare. Anche quelli che hanno difficoltà. No. Come sento dire. Beh allora togliamo le distanze sconosciute. Mettiamole tutte conosciute. Ma perché? No. È un'abilità. Chi non lo sa fare bene non è bravo. Chi non lo sa fare bene non è bravo. E normalmente. No, no, no. Il 99% dei casi. Chi non sa parametrare non sa neanche tirare. Ma chi sa tirare bene sa sempre parametrare. Allora da questo se ne deduce questo. Che chi ha inventato. La regola che. Che chi parametra lunga. È l'arcere scarsa. Quindi facilitare. La parametrazione. La parametrazione è lecita. Il regolamento lo prevede. Prevede che nella mia normale sequenza di tiro. Posso fare tutto quello che voglio. Non in modo esplicito. E poi mi avete detto dei tiri saliti in discesa. Chi mi diceva? Tiri molto inclinati. Ah, dei tiri molto inclinati. E dei tiri molto inclinati. Bisogna annullare la parola l'asera. Perché se io tiro proprio in verticale. Beh, devo apprezzare la dritta. Devo averla all'occhio. Questo per quanto riguarda l'arco. Per quanto riguarda l'Olimpico. Bisogna fare attenzione alla parola l'asera. Di rispondere sul punteggio. Ah, ecco. Evvio, grazie. Allora, abbiamo dimenticato una parte importante. Che al contrario dell'indole, del tiro alla targa, dove è l'arbitro che decide la controversa sul punteggio. Il punteggio di riga, tocca, non tocca, è punto superiore, è punto inferiore. Nell'altre field, come d'altronde anche nel 3D. Nell'altre field è la stessa fattuglia che decide il punteggio. Quindi non si può chiamare l'arbitro. Si può chiamare l'arbitro, ma non per derimere una controversa. L'arbitro si può chiamare in qualsiasi momento per problemi logistico-organizzativi. o anche di etica sportiva. Se c'è un arciere che sta facendo delle pratiche non lecide, cavolo, devo immediatamente denunciare qualsiasi fatto che non sia entro le regole. Per quanto riguarda i punti, invece, no. Bisogna cavarsela dal solo. Come avviene? Beh, le regole internazionali sono un po' diverse da quelle che ci sono in Italia. Perché la regola internazionale, cioè quella World Archeri, dice che in caso di parità si dà il punto superiore. questo cosa vuol dire? Vuol dire che se siamo in quattro, se la pattuglia è da quattro, come normalmente è, e io sono uno, basta che un altro mi dia il punto e che è il punto superiore. Perché, ovviamente, io dico che c'è, un altro compagno dice che c'è, anche se altri due sono contrari, il punto è superiore. in Italia, invece, si fa la votazione sul punteggio escludendo l'interessato. Quindi l'interessato è sempre escluso. quindi ce ne voglio dire, in pratica. Diciamo che... No, no, ma alle volte ci sono punti dubbi che effettivamente non si capisce. Alle volte è molto martoriata la visuale, effettivamente tutti devono guardare e dire la propria idea. Diciamo che una buona strategia per derivare queste controverse è quella di non fare tante parole. Cioè, più parole si fanno, peggio, peggio. Cioè, se uno chiede il punto e uno è il contrario, e invita gli altri ad andare a vedere, e non si fanno commenti, non si fa nessun commento. Alla fine tutti hanno guardato, si mette tutti il pollice orizzontale e uno, due, tre, e si decide all'istante se il punto c'è o il punto c'è, tutti insieme. Questa è la strategia migliore, la condizione migliore per derivare una controverse. Se no, guarda meglio, c'è o non c'è... Se c'è, bene. Se non c'è, paziente. Vuol dire che dovrete tirare meglio la qualsiasi volta, che tirava sul centro, e poi dimenticare immediatamente che non vi abbiano dato i punti. Se i punti non ve l'hanno dati è perché non c'erano. Perché guardate che è molto facile capire se il punto non c'è. Se voi andate a guardare la vostra freccia e dentro di voi la valutate come se fosse di un altro, guardate che vedete proprio un'altra cosa. perché se guardate la vostra freccia, non si sa come, si avvicina sempre di più al punto superiore. Come un bilancio. Se è la freccia di un altro, effettivamente vedete proprio che manca qualcosa. Quindi è molto difficile che la freccia sia dubbia, ma il punto ci sia. Quando è dubbia, raramente il punto c'è. Molto, molto, molto. Quindi tirate meglio. È la cosa migliore da fare, che potete fare per sorbbiare questo inconveniente. Si sparca, cioè? I punteggi si smarcano sempre, anche nell'anterefile. Diciamo che anche il fatto di smarcare non è che sia un ideone. Perché se io mi rimbalzo e c'è un foro non smarcato nell'uno e mi prendo l'uno, però non è di peso da me, è di peso dalla pattuglia precedente. Allora, io non posso prendermi un problema che non mi è diverso da me. Perché nell'indon e nel targa, soprattutto nell'indon, la mia visuale non la devo smarcare. E se non la smarco, non so, a cavolacci miei. Ma nell'anterefield, porca miseria, io mi devo regolare su quello che ha fatto la pattuglia che mi precede, che è passata precedentemente sul mio bersaglio. E questo non è giusto. Cioè, sì sì, devo dire che gli altri siano sportivi e abbiamo parola, gli altri si possono dimenticare. E per una dimenticanza di un'altra me la devo prendere io. la colpa, non è giusto questo, non è sportivo. Perlomeno non è sportivo. Quindi la smarcatura nell'anterefield non dovrebbe esistere. Come non esiste nel 3D. Nel 3D non c'è la smarcatura. Ed è molto più facile da rimbalzare. Quindi non vedo perché bisogna smarcare questi puniti nell'anterefield. Eh, però se voi... Allora, mi diria uno smarcatura e ti... Avete una freccia o mi ritorna una freccia? Io non mi vado a dire niente. Se la freccia è rimbalzata o niente? Diciamo che nel 3D la regola hanno trovato un escamotaggio, quindi no? Perché se tutti vedono dove ha rimbalzato la freccia, vi daranno quel tutto. Però io non l'ho mai visto dall'11, anche se la freccia è rimbalzata dall'11. Anzi, al contrario. Io ho visto tantissimi... E non faccio a nomi né genere... Né genere... Però ho visto che i miei occhi... Voltarsi tutti dall'altra parte e dire... Non abbiamo visto. E quindi è zero. Quindi forse si impegna. E allora lo possiamo fare. Eh? Come con te no? Ah no... C'è vero che mi metto a te e faccio un bianco. C'è un bianco? C'è un bianco? C'è un bianco? C'è un bianco? Perché sono rimbalzato, ma poi quante volte rimbalzano le frecce? A me... A me non sono mai rimbalzata. No, no... Mi sono rimbalzata... Nel Mindor mi è rimbalzato. Nel Mindor. Lo smarcavo io e... Non era smarcata né 9, l'unico, era. Sono fatti quella lì. Sono 9 dalla luna. No, però... Perché c'era una punta piantata. Ah, c'era una punta piantata. Perché? Ho preso in pieno una punta piantata e questo può capitare, però come fai a capire? Cioè è peggio. Certo, è sempre un po' promesso, poi la verità, la cosa migliore è difficile da trovare, da capire, non è che sia come semplice. Dipende dal senso delle persone, dalle regole, però le regole sono più semplici e più facilmente applicabili. Nel tiro di campagna, nel caso di una giornata con, diciamo, condizioni atmosferiche in campo, non dico vento, perché oggi non so se deve più, non è che stava dentro un certo libro, però può capitare che passi un terzo un versante più colpina, più floreggiato, oppure vado le stesse regole che possono diventare, nel senso che potrebbe essere un pedino, lo stesso, far battere un terzo uno stato, se non pioggia, se non si è un po' lungo, ma scelta un po', perché non è che si fa ancora... Allora, sì, sì, allora, nel cambio di... intanto se pioggia e vento nella telefilm, capitano... Si fanno anche tutte le regole? E purtroppo fa parte del gioco anche quello, no? Perché alle volte può addirittura può capitare che io faccio un tratto... come è capitato? È capitato che io sono passato a mezzogiorno sul crinale della montagna e c'era un vento a 100 km orari e le frecce veramente andavano dappertutto, Chi è passato, però, alle 9 del mattino non ha trovato vento e ha fatto una vicenda... Non è vero che l'ha successo che non ha trovato vento in mano? Diciamo che lì vento c'è dappertutto, quindi non è un grosso problema... Però ecco, può capitare, condizioni di questo genere qua, può capitare che in certe piazzone, in un certo periodo di orario, qui ho il sole negli occhi, in un altro periodo ho il sole alle spalle e le cose cambiano non poco nel tiro. Questo è il tiro di campagna, il tiro di campagna ti andrà meglio magari nella prossima gara. Una cosa però da dire è che, come anche nel 3D, anche nel tiro di campagna, un compagno può venire a fare ombra, può venire con l'ombrello a parare la pioggia sul picchetto del campagna. Se c'è troppo vento, se c'è troppo sole, può venire con un cartoncino a fare ombra, tranquillamente sia nel campagna. Il regolamento dice che è vietato nelle fasi finale, però non è vero che è proprio vietato, perché il giudice di gara, il capo dei giudici di gara, può prevedere anche di farlo anche nel finale. C'è anche questa possibilità, nel caso la sicurezza innanzitutto, se io non vedo più niente, se ho il sole proprio negli occhi, devo avere la possibilità di avere la sicurezza. però può capitare, in effetti, di avere condizioni proprio diverse, completamente diverse in una piazzola. Quindi, una piazzola, io parto dalla 1 e arrivo in montagna alla 12. Però chi è partito dalla 12 è partito quando non c'erano le piogge alle 20. E quando ci arrivo io, magari due ore dopo, c'è pioggia alle 20. E sono vicino alla montagna. E questo può capitare. Fa parte della scalonia. Il tiro di campagna non prevede poche condizioni. Ecco perché ci devono essere molte difficoltà oggettive. Perché non può essere solo una questione che ho avuto fortuna nel passare primo e nel passare due. Ci devono essere tante difficoltà oggettive, salite, discese, ripiedi, valutazione delle distanze, possibilità di non capire se erano un 60 o un 80, che vanno poi a vanificare questa disparità di trattamento fra sole, pioggia, vento, eccetera. Basta. Non c'è altro. No, una cosa. Aspetta, 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 un'altra cosa. Allora, domanda. Vediamo se avete capito. Arrivo in una piazzola, l'ho messo nella soluzione. Arrivo in una piazzola, una piazzola sconosciuta, sconosciuta. E ci sono tutti e tre i picchetti insieme. Rosso, blu e giallo, tutti e tre i picchetti insieme. A che distanza sono? A che distanza? Devo parametrare o solo a distanza immediatamente? Ho tutti e tre i picchetti piantati. Diciamo un 80 centimetro. Così. 35 metri. 35 metri. A 35 metri, sconosciuta. Se io trovo un 80 con tutti e tre i picchetti identici, la visuale non può essere che a 35 metri. Ecco perché è anche importante capire a che distanza sono i pensaggi. Ad esempio, se io sono un olimpico, Stefano fa la valutazione e dice, porca miseria, quanto sarà questo 80 centimetri? Sarà più di 50 o più vicino a 55? Ecco che è importante sapere a quant'è al massimo il picchetto blu e a che distanza ce l'ho. perché se io faccio il picchetto rosso e il picchetto blu ce l'ho a 4 metri di distanza, questo sarà al massimo 49 metri. Sarà al massimo 49 metri. Quindi di sicuro sarà meno di 49 metri o addirittura meno. Quindi se io lo stavo valutando 50, beh... Tirò già 48. Eh, tirò già 48 per sicurezza. E questa è una strategia, è quella del Regus da risolvere. Ecco perché non si può stabilire un tempo con il piazzone. L'idea migliore è sempre quella. Uno io posso scarrellare, fare tutto quello che voglio. Tanto poi io alle 4, alle 8, fino alle 16 le tirano. Fino alle 3 le tirano. Fino alle 3 le tirano le tabelle di prendenza. Dopo le 3 non le ritirano più. E' finito. E lui è lui. Io posso portarlo in gara? Assolutamente sì. In gara, in gara chiunque può portarsi qualsiasi parte del regolamento. Qualsiasi parte del regolamento. Tutto o qualsiasi parte. In qualsiasi livello di gara regionale. Qualsiasi tipo di gara dal campionato del mondo alla gara del libro. Qualsiasi cosa. Posso anche segnarvi tipo la piazzola 11 secondo me a 100 metri. No. A quello assolutamente no. Non puoi prendere nessun tipo di promemoria. Né scritto né elettronico. Ma anche dopo il tirato. Neanche dopo il tirato. Neanche dopo il tirato. Tanti lo fanno. Tanti lo fanno. Nel tiro di campagna, nel tiro 3D non si può avere nessun tipo di promemoria. Perché ogni tanto voi pensate proprio dopo finita la gara. Anche questo non lo capisco. Anche questo è talmente irrisorio. È talmente irrisorio il fatto di prendere appunti che... Il tirato lo finito questo è pubblico di fare. Ma sì. No, anche perché è ragazzo da quando finita la gara. Se ci fosse la lista delle disegno. Va bene, questa è una... Certo, certo, certo. Certo, certo. Certo, ma no. La regola dice... I grandi pensatori pensano che uno ne possa trarre un indebito vantaggio. Un indebito vantaggio segnandosi bene. Se io mi segno che ho già fatto una lunga e una media... degli occhiali, dei pidocchi. Quella che troverò sarà una minima. Conosciuta. Conosciuta. Per questo motivo non si fa, non si prenderò la lunga. Quindi anche all'interno del 5-10 metri. In un altro punto dei pidocchi ce ne sarà... Per esempio nell'80. Nell'80 ne ho tirata una a 33 metri e ci ho preso. Quindi era 38 metri. La successiva che troverò sarà sicuramente più di 38 metri. Allora, prendendo punti io aiuto la mia valutazione. Però è un discorso talmente effimero che non mi dà nessun contributo supplementare. pochissimo. Tanto io le valuto tutte le distanze. A un momento le valuto anche quelle conosciute. Per sicurezza. Quindi è fina la prova. È molto, molto fina. E con la stessa discorso che non puoi portarti i riferimenti per lo stringuovo. Devi tenerli a mente. Non puoi portarlo. È vietato. Perché è un aiuto alla mia. Allora mi dovete spiegare? Mi dovete spiegare. Mi dovete spiegare. Che aiuto alla mia? Che aiuto alla mia? Vabbè, io ce l'ho a mente. Non è un problema la mia mente. Ma è talmente, è una regola talmente effimera che è meglio non avere niente. Così uno non può avere nessun tipo di punto. che punto devo avere. Io posso anche portarmi gli appunti bene contro. Tiro bene dentro. Sto fermo. Che poi la devo tirare questa freccia. Se io fossi bravo nell'altra figlia. Faccio tutti i centri alle conosciute. Questa zona qua. Sono tutti nel giallo. Ma allora spiegatemi come mai. Come mai nel 100% dei carri. Si fanno più punti nell'altra. Perché sono più piccoli. Perché sono più piccoli. Perché sono più piccoli da prendere. Se fosse una questione di sapere a distanza. Che qua faccio più piccoli. Quale invece con olimpici e companto. O andare dietro la traccia a distanza. Si. Oltre dei bialini olimpici e companto. I soldi. I soldi. Ed ogni parte del regolamento. Ogni parte. Ogni riproduzione. In piccolo. In grande. Del regolamento scortivo. Qualsiasi parte del regolamento. O una qual era. nessun altro per memoria ha messo quindi quello che sta scritto sul regolamento, che è scaricato da internet dal sito della FITAP ogni sua parte ve la potete portare al piede se non ce l'è non la potete fare